e adesso parliamo dello sport che continua a rendere grande Napoli all'estero e lo fa attraverso l'ultimo dei talenti sfornato dal clan Maddaloni Bright Maddaloni che oggi qui con noi al nostro saluto di mattina noi per raccontarsi lui è un giovane quindicenne già due volte campione italiano di judo e tra l'altro freschissimo del primo successo internazionale all'europea Ancadè di Follonica insieme a lui naturalmente c'è il capostipite della famiglia Maddaloni il maestro Gianni Maddaloni che ha adottato Bright all'età di due anni e che tra l'altro ecco porta ben in auge un titolo una sigla che dobbiamo bene far leggere al nostro pubblico i Maddaloni lo sport educa il pianeta un'altra tematica quella ambientale che il maestro porta avanti oramai da tempo buongiorno buongiorno grazie dell'invito ben ritrovato questa maglia grazie questa maglia dice la verità educa 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 il pianeta perché lo sport ha le regole e se tutti avessero le regole dello sport dal clima a evitare le guerre si potrebbero fare tante belle cose lo sport è uno strumento fortissimo uno strumento fortissimo intanto qui è uno strumento che aiuta anche i giovani questo lo sappiamo bene attraverso la famiglia maddaloni lei che tra l'altro decide di adottare bright all'età di due anni anche questo è un gesto bellissimo se le va di raccontarci la storia di bright che oggi è un giovanissimo talento certo magari sarebbe interessato e farlo attraverso delle immagini fresche fresche che abbiamo che seguono un po non soltanto la carriera ma proprio la vita di questo ragazzo che sta già raggiungendo dei risultati straordinari eccole qua intervista fotografica maestro sì brazie lì aveva già due anni e mezzo serena aveva sei mesi quindi di figli non mi mancavano stavo già quota sei trapino laura marco francesco elenia e serena poi ho visto questo bambino di due anni che giocarellava in questo ristorante in una comunione e seppi che la coppia che l'aveva adottato non lo poteva tenere più guardai mia moglie dissi rosaria lo prendiamo questo bambino qualcosa mi dice che deve stare con noi rosaria fu grande in quel momento disse sì ed è stato un connubio importante perché arricchito ancora di più la mia umanità perché bright non solo è educato ma pensa molto al papà la mamma ai suoi compiti in casa è un ragazzo che è un grande modello di vita un modello che in realtà già da piccolino perché nella foto che abbiamo mostrato al pubblico bright era già un judoca provetto già aveva in sé l'arte dello sport della disciplina quel rigore è già un piccolo lottatore già muoveva i piedi sul tappeto e ancora oggi quando corre verso il compattimento lui corre non ha l'ansia della paura lui gioca lottando e da bambino già aveva questa predisposizione sai i piedini a terra bene impiantati il movimento dell'anca e questo mi lasciava pensare che un giorno poteva diventare un campione io a questo punto bright lascerei parlare te perché insomma tu vivi questa bella avventura questa bella storia che sensazione ti fa vivere in questa famiglia così bella così grande maddaloni e con un esempio di sport e di vita come il maestro gianni beh prima di tutto devo ringraziare mio padre se non fosse se non fosse stato per lui io non sarei qui certo che quando combatti ti chiedo maddaloni clan maddaloni una famiglia il cui cognome è un cognome importante per i risultati nostre pitosi che la famiglia ha raggiunto anche attraverso i tuoi fratelli quando combatti senti questo peso ecco di portare avanti questa responsabilità e quindi di volere a tutti i costi il successo oppure no ti piace combattere lui si allena anche con marco marco mio figlio e ultimamente ha fatto anche da sparring partner a dusendorf dove marco ha combattuto e questa cosa lo aiuta molto anche perché poi è partente grande lui è mio figlio i fratelli lo hanno accettato e condividono con lui le emozioni questa è una cosa molto importante ma direi che anche uno stimolo forte dal punto di vista proprio sportivo competitivo cioè avere in casa degli esempi una medaglia olimpica e tante altre che abbiamo visto ma può essere come ha detto la sua collega un handicap un peso mentre lui la prende bene sì sì perché lui c'è la proprio dentro dentro il judo diciamo la lotta l'armonia perché un handicap perché può avere troppe pressioni forse la c'è il vincere per forza no no e questo devo essere bravo io assolutamente a essere lungimirante a pensare parigi 2024 non pensare sidney tokyo ma io lo vedo un po' sereno lui sì sì ma lui è proprio così è tranquillo poi si allena a tre ore la mattina va a scuola privata per non restare diciamo nell'ignoranza per una sua cultura fa tre ore di allenamento mattina e tre ore alla sera mamma mia è l'eccellenza lui altri ragazzi e devo dire la verità quest'anno abbiamo inserito tre ragazzi di scampia nei carabinieri martina luigi mario petrosino susi scutto in finanza è la stessa giovanna fusco nella polizia si stravolge il destino dei ragazzi di scampia con l'inserimento nei gruppi sportivi militari io ringrazio i gruppi sportivi militari per l'occasione che dà di serenità di avere un posto di lavoro in un momento così drammatico delicato dell'italia senta la storia di bright maestro è solamente una delle ultime dimostrazioni che se si insegna si educa alla maniera giusta come giustamente diceva lei prima attraverso lo sport anche questo diventa un messaggio di inclusione è importantissimo sì di fatti ho appuntamento con dei vertici a scuola a roma al miur appunto per parlare di questo perché lo sport come dicevo educa ma in senso veramente pratico nella scuola elementare mettere l'attività motoria attraverso l'educazione sportiva le regole del percorso maddaloni sicuramente porterà meno spese allo stato sulla sanità meno ragazzi ammalati meno ragazzi obesi e sulla giustizia meno delinguenti per le strade ma direi se mi consente al di là poi delle spese è proprio uno strumento se vogliamo chiamarlo così di inclusione sociale no lo sanno bene per esempio gli stati uniti che fanno dello sport la materia più che una materia di fatti si possono mettere insieme al coni quindi coni scuola è una sana politica dei ragazzi che sicuramente possono avere anche un futuro come arte perché dico quando si arriva al secondo anno di liceo e tu hai cominciato dalla prima elementare avrai praticamente un diploma di qualifica puoi essere un operatore sportivo con tre anni puoi trovare la specializzazione nello sport dove tu sei ormai diciamo specializzato e questo è un investimento dello stato perché meno bulli meno ragazzi ammalati ma gente che realmente sa lo sport la forma che cos'è senta mentre prima abbiamo parlato anche di suo fratello di suo figlio e del fratello di bright marco maddaloni io le volevo chiedere ecco perché dall'alto della sua esperienza dal punto di vista sportivo che tanta esperienza anche nel rapporto dell'empatia con tanti giovani ragazzi bright oggi oggettivamente che atleta è ecco rispetto anche ai suoi fratelli è riuscito ad essere tra virgolette avvantaggiato perché ecco reduce anche dall'esperienza dei fratelli precedenti oppure questo aspetto tecnico sì l'aspetto psicologico lo abbiamo già analizzato è un peso ma tecnicamente è un qualcosa di importante perché marco è un mancino pino e destro laura con il suo amore di donna di sorella più matura la stessa ilenia serena cioè sono tutti intorno a brights e intorno anche a francesco voglio dire l'amore della famiglia sia sotto l'aspetto tecnico e sia sotto l'aspetto del dell'empatia del del centrale della famiglia è positiva cioè brights sta in ecco sta in a suo agio ha caratteristiche diverse atletiche rispetto a quelle di suoi fratelli e siccome lui ha un a un corpo che cresce rapidamente e allora il judo si pratica dal basso in alto dall'alto in basso vuol dire o fai tecniche di gambe a sciwaza o tecniche di te waza di braccia pino faceva tecniche di di te waza perché era piccolo brachilinio marco loncilinio a sciwaza allora io faccio fare a lui sia l'uno che l'altro che natura comanda al momento opportuno lui metterà fuori le doti a secondo del suo fisico e la spiegazione tecnica sì 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 no molto interessante gli chiederei qual è il sogno nel cassetto ma lo vedo talmente equilibrato talmente maturo anche quello che fa che magari ci risponde star bene essere contenti e cosa sono degli obiettivi mio obiettivo di vincere le olimpiade ah vabbè allora c'è è già proiettato è già proiettato per questa prossima sfida si si allenatando dio poi grande perché dio deve dare l'esempio che prima di tutto l'inserimento l'integrazione in una famiglia napoletana e quindi non c'è razzismo negli italiani uno c'è amore e poi attraverso lo sport chiunque può avere l'educazione dello sport l'educazione dello sport significa modello di vita quindi credo che questo come integrazione come inclusione come amore e come sport possa essere un grande modello per a livello internazionale al modello internazionale però ricordiamo che diciamo che la famiglia Maddaloni è un riferimento di grande eccellenza per quanto riguarda il territorio di Scampia e sappiamo che grazie a tantissime le sue iniziative Scampia riesce ad avere un altro volto sta maturando veramente rapidamente ultimamente tra l'altro se ne sta parlando tantissimo ancora oggi riguarda quello dello scorso giovedì 20 febbraio 20 21 febbraio dove c'è stato l'abbattimento della vile verde no di Scampia ecco che segnale è stato per il quartiere ma soprattutto da parte sua perché lei lo vive in maniera in primis ecco in prima linea sotto tutti i punti di su questo aneddoto ci discuterei nel senso io sono stato un federiciano lavorato al policlinico per 43 anni e nel periodo 83 92 ho abitato nella vela marrone proprio perché l'ho voluta ho voluto che il campione olimpico Laura Maddaloni dovevano vivere nella vela proprio perché sentivo che qualcosa doveva nascere di forte lì quel sentimento di riscatto le chiedo quel sentimento forse di riscatto ma dovevano capire il territorio di fatti Pino faceva dei circuiti salendo fino la vela dalla basso fino all'alto io con il cronometro si veniva dal bosco veramente abbiamo fatto delle cose veramente importanti ma la vela attenzione è a doppio taglio nel senso che io oggi attraverso l'osservatorio legale ho cercato di far fare un'indagine per vedere l'amianto fino a che punto è stato tolto perché io abito ancora a scampia e il piacere di vedere le vele a terra e al posto delle vere vedere degli impianti sportivi vedere un ucci cinemas che i ragazzi non hanno quindi virtuosità economica movimento opportunità per i ragazzi perché naturalmente maestro l'abbattimento della vela è sì un simbolo ma adesso bisogna veramente costruire quelle cose che sono state annunciate perché sostanzialmente quello è un primo passo simbolico per creare una situazione diversa i fondi si possono trovare a livello europeo i soldi ci sono quello che è importante è farle le cose quindi una sana politica e io ho fiducia anche se le delusioni sono state tante però ho fiducia negli uomini ancora non so se è un difetto mio è sicuramente un pregio messo perché lei sicuramente non aspetta però la politica perché intanto le sue iniziative lei fa esatto la politica del fare è proprio nel suo dna tantissime iniziative tantissime ne abbiamo presentato il nostro salto di mattina 9 ed altre quelle che vedono ancora protagonisti giovani ma soprattutto i giovani ragazzi portatori dello spettro autistico e ancora l'interesse no per gli anziani i ragazzi autistici vanno accolti e messi tra i normodotati i ragazzi autistici sono un qualcosa che bisogna dare un aiuto alla famiglia alla donna alla mamma esatto e anche agli anziani gli anziani non pagano la quota e nemmeno i ragazzi autistici questi sono i nostri ultimi obiettivi però ritornando alla vela attenzione ci vuole un'indagine per vedere se ci sono ancora tracce di amianto è chiaro questo è molto importante raccogliamo l'appello perché è un appello che lei in questo momento sta organizzando quando riguarda gli obiettivi nostri noi è come un centro di accoglienza le persone vengono e noi cerchiamo di aiutarli attraverso questa struttura anche l'accoglienza di una mamma che piange il figlio sta in galera il ragazzo va preso in affido ai servizi sociali va educato in un ambiente tranquillo come il nostro questo è una bellissima cosa sempre io lascerei i nostri ospiti con un messaggio proprio da parte di questo piccolo grande campione no cioè il desiderio così che tu hai subito di realizzare a breve termine beh quest'anno appunto è giusto che parli noi ragazzi non sempre noi adulti maestro non so se sei d'accordo sì sì le dovrebbe fare il mondiale dovrebbe fare appunto vincere il mondiale l'europeo quest'anno allora tanti auguri tanti tanti auguri buon allenamento perché sei in una famiglia veramente straordinaria grazie anche a maestro mandaloni saluti a tutta la famiglia grazie a voi dell'opportunità grazie grazie siete bellissime e bravi ma grazie a lei veramente per portarci tantissime belle notizie per scampia e non solo restate con mattina 9 pubblicità